Stai pensando di aprire un bar o un ristorante? Da 40 anni, Pico Service offre consulenza professionale e qualsiasi tipo di attrezzatura o macchinario per il tuo locale. Pico Service progetta e realizza insieme a te ogni aspetto del tuo nuovo esercizio. Ti propone le tecnologie più innovative per migliorare i tuoi prodotti e ottimizzare il tuo lavoro consigliandoti i migliori marchi di macchine da caffè espresso, cucine professionali, lavastoviglie, fabbricatori di ghiaccio, frigoriferi, acciai su misura, forni vapore, piastre, impastatrici, prodotti per pizzerie, cappe aspiratrici, affettatrici, attrezzi per latte art, detersivi per HACCP e molto altro. Cosa aspetti? Pico Service! Ci vediamo al bar!